Benvenuti a un nuovo speciale GCN Italia Tech. Oggi vedremo le biciclette per la Milano Sanremo. Il team Novo Nordisk che corre con bici con Nago ha scelto nella maggior parte dei casi il modello Comset quindi un modello aereo con freni tradizionali montata due race elettronico. Alcuni hanno scelto invece la più leggera C64. Novità anche in casa Vora con la nuova colorazione della Specialized Venge Peter Sagan, grigio lucido e grigio opaco. Nuova bici anche per Giovanni Visconti, quest'anno correrà con l'austriaca KTM, in questo caso freni a disco e montata SRAM Red, nuovo modello wireless. Per Matteo Montagutti Bottecchia M4 Squadra, bicicletta non aerodinamica che però ha un manubrio integrato aerodinamico, misuratore di potenza Stage e per avere meno attrito rotelle del cambio Ceramic Speed. Verosa offre una doppia possibilità di scelta all'Israel Academy, la più aerodinamica SK Pininfarina o la più scattante Protos. Mirko Maestri ha macinato tantissimi chilometri in fuga alla Tirino Adriatico, tanto da riuscire a vincere anche la maglia a punti tramite i treguardi volanti. Sono la Guerciotti E740, montata Campagnolo Super Record Meccanico. Bici italiana anche per i francesi della Direct Energy, in questo caso Willier Tristina, modello aerodinamico, montata con sella e componentistica Prologo e durese elettronico. Cofidis continua la collaborazione con Quota e unisce altri marchi italiani, Campagnolo per le ruote e il gruppo, che è un Super Record elettronico, componentistica Dedelementi, sella e nastro Fizik. Bene, la Milano Sanremo è appena partita. Oggi ci siamo concentrati sulle Professional con la Wild Car. Se invece siete intenzionati a vedere le biciclette delle squadre World Tour, potete cliccare sul link qui in alto. Se invece volete vedere una nuova puntata di GCN Italia Tech, che abbiamo girato le strade bianche, cliccate su questo link. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando sul globo, è gratuito. Mettete un bel like a questo video, condividetelo e continuate a seguirci.